Segretario, cresce l'Udc in Abruzzo, cresce l'Udc a Pescara, oggi viene sancita questa unione, questa federazione con Amare Pescara e con il consigliere Berardino Fiorilli. Sì, è un'iniziativa straordinaria che mette insieme persone che la pensano allo stesso modo e che fanno riferimento a un'area culturale che ha fatto grande questo paese, la democrazia cristiana. Bisogna riunire queste forze, lo stiamo facendo non solo a Pescara ma in tutta Italia, penso che questo sia un grande servizio al paese. Il tempo delle rendite è finito, torna la buona politica, quella che serve soprattutto a risolvere i problemi dei cittadini e a far funzionare un paese, a far funzionare una regione, a far funzionare le amministrazioni locali italiane. Perché dico questo? Perché Berardino è stato vice sindaco, una persona impegnata nel sociale che ha grandi qualità, viene a ricostruire un percorso del centro nella politica abruzzese senza rendite, solamente con la passione per la politica. Si lavora, ho sempre lavorato, io sono, come mi conoscete bene, sono un uomo di squadra, per cui lavoro per il partito, lavoro per la gente, lavoro per la mia città e ovviamente questo è un primo mattoncino che noi mettiamo, con Berardino che io stimo ormai da una vita. Abbiamo già iniziato a collaborare da subito all'interno del Consiglio Comunale perché i nostri intendi sono sempre quelli cattolici democratici di aiuto alle persone bisognose. Quindi ci siamo aiutati a vicenda e oggi sfosa in questa bellissima giornata. Sono contento perché a benedire questa cosa c'è il segretario nazionale del partito, considerando anche che siamo ancora purtroppo in piena pandemia. Quindi lo ringrazio personalmente per essere intervenuto. È chiaro che acquisendo un altro consigliere vi posso preannunciare che già in trattativa il presidente con un altro consigliere che vorrebbe abbracciare anche il nostro discorso politico. Io penso che poi il segretario nazionale all'interno con gli organi ufficiali deve rivedere un po' anche la scuola di governo della città e valutare le opportunazioni. Un percorso nato naturalmente, devo dire la verità, nato innanzitutto dal rapporto d'amicizia con Massimiliano Pignoli e poi dai comuni valori che ci accomunano, scusa del gioco di parole, che sono quelli sicuramente del sociale. Abbiamo iniziato a lavorare insieme in Consiglio Comunale per quelle cose che ci sembrano più importanti. Grazie anche all'assessore Dinizio che rappresenta oggi parte delle sociali in Comune di Pescara. Condividendo queste cose abbiamo deciso di fare questa federazione perché per noi è importante avere anche più forze. In politica contano i numeri, ma mai come in questo caso ci sono affinità di idee, comunioni di intenti che ci permettono di cominciare a lavorare insieme in maniera fattiva. Manterremo i gruppi distinti in Consiglio Comunale per un fatto tecnico-organizzativo ma anche per un rispetto all'elettorato, ma di fatto saremo una voce unica in Consiglio Comunale. Una voce unica che chiede al Sindaco Masci ora maggiore spazio. No, non è questo il problema. Chiediamo maggiore attenzione ma crediamo che la Giunta sia già lavorando bene per questo sul tema sociale. Saremo un po' il pungolo di attenzione, di stimolo alla Giunta, al Sindaco, all'amministrazione su alcuni temi. L'amministrazione è formata da tante forze politiche con diverse sensibilità. Noi vogliamo essere quella con più attenzione al sociale ma soprattutto anche ai valori moderati che crediamo di rappresentare. Mai come in questo momento ci bisogna di una politica che non gridi gli umori di pancia estratti dai social network ma che dia delle direzioni di soluzioni che magari in quel momento possono anche non accontentare l'elettorato perché si parla sempre di elettorato ma soddisfi soprattutto i cittadini.